Hai tanto da raccontarci in questa giornata che vivremo in compagnia del Parma. Adesso ci ha raggiunto qui in studio, la presentiamo subito Barbara Ricci. Benvenuta Barbara, perché è esperta di marketing, presidente e amministratore delegato della società Sportwide. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che tradotto, cosa significa? Che è un gruppo di management sportivo che si occupa dei campioni, ma non solo. Barbara ha scritto anche due libri. Facciamo vedere Barbara, perché insomma vi trovate in libreria. Sono campione, farò di te una star e poi sport, fabbrica di testimonial. Eccolo qua, questo è il primo. Campione, farò di te una star. Io direi di partire proprio da qua. Un po' di campioni vedete in copertina. Intanto qual è la difficoltà nel gestire un campione? Ma allora, difficoltà nel gestire un campione è chiaro che ci sono difficoltà di rapporti personali, e di comunque interagire con una persona e con personalità molto importanti, molto forti. In questo libro, con l'amico e collega Mim Mugliano, che si occupa di ricerche di mercato specifiche nel mondo delle celebrity, abbiamo cercato di trovare un filo conduttore che portasse dal marketing di prodotto, dalle famose cinque leve di marketing diffuse in tutto il mondo, studiate da Kotler, a un'applicazione di queste leve nella gestione degli atleti. Quindi a considerare l'atleta, tra virgolette, un prodotto, con tutte le specifiche del caso. E devo dire che ci siamo in qualche modo riusciti, siamo riusciti a creare un innovativo modello di marketing da applicare alla gestione degli atleti, dove per ognuna delle leve tradizionali è chiaro che si deve fare una sorta di traduzione che consente questa applicazione su delle persone, anziché su dei prodotti. Certo. Barbara, i risultati in campo, i risultati sportivi, sono direttamente proporzionali ai risultati come testimonial, ai risultati dell'immagine degli sportivi, oppure no? Più che direttamente proporzionali, i risultati sportivi, secondo me, possono giovarsi di una corretta gestione dell'immagine di un atleta. E comunque, senz'altro, sarebbe uno spreco e anche un danno per un atleta non essere gestito adeguatamente fuori dai campi. Per divertirci e fare qualche nome, per esempio, un atleta come Cassano, un campione, un calciatore come Cassano, se in questi anni fosse stato gestito un po' meglio, chiaramente si parte anche da una caratteristica, come dire, caratteriale di un certo tipo e culturale di un certo tipo, però se fosse stato gestito un po' meglio, seguito un po' meglio, senz'altro avrebbe avuto vantaggi anche sulla sua carriera. In questo senso ti do ragione. Esempi positivi, invece, credo che vengano raccontati proprio nella parte centrale del libro, vengono trattati come i case history. Ci sono, appunto, l'abbiamo visto anche nella copertina, del Piero, Valentina Vezzali e Valentino Rossi. Sì, per esempio questi, proprio perché il libro a cui stiamo facendo riferimento non è recentissimo e questi campioni, che già erano case history positive quando abbiamo presentato il libro 5-6 anni fa, oggi lo sono ancora e quindi questo significa che non è casuale arrivare a certi livelli e soprattutto non è casuale mantenere certi livelli. Sono personaggi che hanno dato e continuano a dare tantissimo sui campi di gara, ma sono anche personaggi che non hanno mai sbagliato un colpo fuori e questo credo che poi contribuisca al gradimento che il pubblico ha nei loro confronti e di conseguenza al fatto che per le aziende siano assolutamente interessanti e che li utilizzino ampiamente. Viamo all'altro libro, Sport, Fabbrica di testimonial, Campioni sul campo, vincenti in comunicazione. Questo invece è un libro della scorsa estate, l'estate del 2009. Come si fa a fare di un campione un testimonial perfetto? Oppure c'è soltanto da lavorare? Oppure vengono un po' sfruttate le caratteristiche di base degli sportivi? Cioè se sono simpatici, se sono belli, vengono scelti, altrimenti no. Guarda, hai toccato due tasti che sono fondamentali perché intanto cominciamo col dire che non esiste un perfetto testimonial se non c'è di base un campione assoluto. Quindi i campioni che diventano anche testimonial sono tutti personaggi che sui campi di gara hanno da dire la loro e hanno raggiunto dei livelli molto importanti. Però senz'altro l'avvenenza fisica, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini e la simpatia sono due elementi molto importanti. Si possono anche costruire quando non ci sono? Oppure se non ci sono, non ci sono? Ma no, sì, si possono non costruire. Si può lavorare, non si costruisce mai niente. Tirare fuori, diciamo. Non si costruisce mai niente. Ho visto, d'altro, Barbara, la prefazione di Giovanni Malagò, che insomma c'è un capitolo che riguarda proprio una nuotatrice tanto cara a lui, cioè Federica Pellegrini. Sì, ma Giovanni Malagò ha scritto la prefazione non tanto in quanto presidente del club che ha la fortuna di gestire Federica, ma in quanto imprenditore a cavallo tra l'imprenditoria e lo sport. E quindi era questo il punto di vista che volevamo evidenziare. E poi, va bene, dentro il volume ci sono anche le che esistono dei campioni, di alcuni dei più grandi campioni. E tra queste è quella di Federica Pellegrini, che è molto interessante, perché questa ragazza ha raggiunto livelli altissimi nello sport, nella sua disciplina, giovanissima, ma ha raggiunto anche livelli straordinari di successo fuori dalle vasche, anche giovanissima, e quindi continua a non sbagliare un colpo. È impegnata nel sociale, ha spilato per Armani, è testimonial di Armani, è testimonial di una grande, di una grossissima campagna pubblicitaria di un'impresa di energia, quindi... Guarda, il messaggio l'hai lanciato, io oltre ai due libri che hai presentato sono convinto che magari verrà a bussare a Sportwide anche Antonio Cassano. Eh ma magari, magari, sarebbe una bella sfida, sarebbe divertente, interessante. Grazie, allora Barbara Ricci, e a presto, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, un saluto. Noi ci occupiamo.